Buon sabato 29 agosto. All'insegna della fiducia e del dialogo con il prossimo. All'insegna della capacità e disponibilità ad uscire da un eccesso di riservatezza e di chiusura solitaria. Apriamo i nostri cuori anche rispetto alle cose più difficili. Non conserviamo segreti del tutto inutili. Consegniamo i nostri dubbi, le nostre intemperanze e i nostri errori alla condivisione con gli altri, alla comunicazione e alla relazione, al dialogo appunto. Un dialogo intessuto nella fiducia, nel affidarsi costantemente agli altri per la condivisione, non semplicemente per sottoporci ad un giudizio, positivo o negativo che sia, ma semplicemente per ottemperare a uno degli aspetti fondamentali della dimensione umana, che è quella della comunicazione e del dialogo che rappresentano sicuramente il fondamento della vita comunitaria entro la quale possono trovare sollievo e senso tante nostre difficoltà, sofferenze e incomprensioni. Buona giornata a tutti.